Lei si ricorda quando è accaduto che lei ha trovato questo messaggio? Era estate. Lei parla dell'estate precedente a questo episodio? Sì, perché la telefonata... Mi sta dicendo che non ha senso. Lei innanzitutto si mette a composto, perché qui non stiamo al bar. Allora, lei tutto può fare chiedendo attraverso il suo difensore di poter intervenire, ma non si permette di fare considerazioni, soprattutto ad altra voce e sull'altra parte processuale. È prevista l'espulsione in questi casi, eh?